Allora, Venturini, Rimini può tranquillamente pensare al campionato che ormai non si sa più quando si inizia, se è il 16 e se andremo avanti, finirà sto di sé? Finalmente abbiamo capito che si inizia al 15, non è facile allenarsi senza sapere quando inizia il campionato, perché allenarsi, 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 poi fare una michele ogni tanto senza sapere quando inizia il campionato, che alla fine è l'obiettivo stagionale del campionato, allenarsi di continuo senza sapere mai l'inizio non è facile, però adesso finalmente abbiamo capito quando inizia e siamo pronti, adesso mancano ancora due settimane, però piano piano stiamo arrivando alla condizione giusta. Ecco, la condizione a questo punto direi che è la cosa principale, i meccanismi di gioco, anche perché in Coppa purtroppo Rimini fuori e forse l'unica cosa che rimane adesso è arrivare al meglio per il campionato. Sì, il nostro obiettivo è sicuramente il campionato, la Coppa, comunque sono gare importanti perché giochi contro squadre a tuo pari livello alla fine, perché sono nella stessa categoria, mentre le amichevoli le fai quasi come allenamento contro magari squadre di livello inferiore, arrivi in Coppa Italia contro squadre forti come te e ti valuti, noi ancora forse non siamo al momento ottimale, perché abbiamo andato il massimo, però non è bastato, comunque l'importante non era vincere, era giocare, continuare a fare gruppo e fare le cose che proviamo nell'allenamento. Sicuramente perdere non fa morale, però adesso noi ci concentriamo sul campionato. Esatto, allora cosa manca a Rimini da migliorare in questi giorni rimanente prima del 15? Dobbiamo migliorare un po' i meccanismi e assimilare bene i concetti che ci dice il mister, perché soprattutto nei nuovi che siamo arrivati quest'anno magari te ti alleni con degli allenatori diversi, hai avuto molti allenatori nella tua anche se è breve carriera, arrivi qui da mister Righetti che ti chiede certe cose, te ancora non sei abituato e pian piano devi mettere dentro. Abbiamo iniziato ormai quasi due mesi fa perché era metà luglio, pian piano i concetti... Tra l'altro pensando di iniziare il 26 agosto. Quindi abbiamo ancora più tempo per assimilare i concetti, magari se partiamo il campionato adesso e non eravamo pronti, abbiamo ancora più tempo per mettere a posto le piccole cose che sono tutte piccole cose, ma se le metti insieme alla fine è la condizione ideale. Allora ovviamente in bocca al lupo a Rimini e sfruttate al meglio questi ultimi giorni. Grazie mille Crepi.